Gera e Palmese si annullano e finisce così con un pareggio d'occhiari della terza sfida in casa dei Biancazzurri giocato al Presti. Ai Giolesi non riesce dunque l'operazione sul passo e in classifica sui Calabri. Una gara sicuramente non bellissima quella andata in scena al comunale di Contrata Giardinelli che ha visto la squadra dal tecnico in Montino non brillare soprattutto dal centrocampo in su con la Palmese che ha badato a non prenderle difendendosi con ordine e compattezza. Del Gera comunque le migliori occasioni. La partita ha fatto registrare tanti falli con otto giocatori ammoniti. Insomma un'altra domenica bocca asciutta per i tifosi giolesi che non vedono vincere in casa i propri benamini dalla prima gara contro il Sersale. Niente da fare anche questa volta con l'urlo in gola rimasto strozzato per i tanti sostenitori locali. Gara che ha visto dopo otto minuti la Palmese pericolosa con il tiro di corso da fuori aria. All'undicesimo ci prova Bruno ma anche la sua conclusione sorvola il montante. Al diciassettesimo il capitano Bonaffini tenta di sorprendere l'estremo difensore ospite con una conclusione sul primo palo deviata in angolo. Al ventirovesimo ancora corso dalla distanza Saitta interviene in maniera goffa ma efficace. Nella ripresa al sesto Gambuzza ci prova di testa sui sviluppi di un calcio piazzato ma la sua deviazione termina in angolo. All'undicesimo Campanaro sempre di testa palla alta sulla traversa. Al ventiquattresimo sempre il difensore gelese Gambuzza tenta la via del gola ma la sua conclusione è deviata dal portiere ospite. Al trentaduesimo il Gela reclama anche un calcio di rigore per una spinta sul Nassi ma l'arbitro non ravvede gli estremi per il penalty. Finisce così dopo cinque minuti di recupero la contesa tra le due compaggini con il Gela che si morde ancora una volta le mani e che domenica prossima sarà impegnato in un'altra sfida difficile questa volta sul campo della frattese.